Guardi, io ogni giorno da milanese vengo fermato da decine di romani, taxisti, edicolanti, passanti, commercianti, che mi dicono che Marino sta conciando Roma come mai in passato. Io non do lezioni ad altri, prendo atto del fatto che in quanto a buche nelle strade, a sporcizia in mezzo alla strada, Roma è messa molto male e invito sabato pomeriggio in piazza del popolo tutti i romani che sperano in una città diversa, in un sindaco diverso, che si sceglieranno loro evidentemente.